Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza illegale sul territorio nazionale sono le accuse nei confronti di sei cittadini stranieri e due italiani che secondo i carabinieri del comando provinciale di Torino ospitavano per denaro clandestini anche minorenni provenienti da Pakistan, India e Bangladesh per poi accompagnarli in auto oltre il confine francese o austriaco. I carabinieri stanno eseguendo nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare nel corso dell'indagine per gli stessi reati sono già state denunciate a piede libero a vario titolo 67 persone e ne sono state sottoposte 7 a misura cautelare. I membri dell'organizzazione smantellata a Torino dai carabinieri procuravano ai migranti anche documenti falsi. Prima di accompagnare in auto i migranti oltre il confine attraverso i valichi del Brennero e del Monginevro i passeur consegnavano false attestazioni di ospitalità e istanze di ricongiungimento familiare. Otto le misure cautelari eseguite dai carabinieri, sei in carcere e due obblighi di dimora per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e permanenza illegale sul territorio nazionale.